Se sei nel deserto e ti danno un bicchier d'acqua, lo bevi e lo bevi per non morire. Poi Renzi ha proposto che faremo le adozioni per tutti. Ecco, io ci credo. A quel punto non vedremo veramente chi è che vota e non vota. Ma oggi credo sia buffo andare il 5 marzo a Roma a gridare cosa? A gridare quello che non c'è più. Certo che a me dispiace, io ho 40 anni che sto con Edoardo. Anch'io vorrei adottare dei bambini. Forse sarebbe proprio per i bambini, ma non per me e per Edoardo. Però insomma, la realpolitik è un'altra cosa. Non si può affondare una cosa che si aspetta da 30 anni. È estremamente convinto delle sue idee Bruno Tomassini, fondatore dell'Arcigay di Arezzo e noto stilista che da anni si batte per i diritti delle coppie omosessuali. L'occasione per parlare del DDL sulle unioni civili che tante coscienze ha smosso nel nostro paese è stata la presentazione del progetto Divino, una campagna a sostegno della lotta contro l'omofobia che passa proprio da due vini dal nome trasgressivo e per nulla velato, Vinocchio e Uvagina. Le due etichette saranno al centro di una serata e in programma per venerdì 26 febbraio allo Sugar Reef di Arezzo che vedrà ospiti Fabio Canino e Paolo Ruffini. Si svilupperà con questa grande scena, con una presentazione di questo nostro amico di sempre e ultimamente anche socio di Prodizio Divino, Fabio Canino, che introdurrà le cattivere, i frizzi e lazzi come dice lui, di Paolo Ruffini. Sarà una serata divertentissima, abbiamo tantissime prenotazioni siamo anche un po' preoccupati, però so che la gente verrà e si divertirà molto e poi soprattutto viene perché, come dicevo, siamo sempre più avanti del Parlamento il fatto dei diritti civili di cui i proventi di questi vini vanno la gente viene perché ha voglia che questa Italia cambi.